Le 5 tecnologie da non perdere nel 2023 Nel 2023, il mondo della tecnologia sta avanzando più velocemente che mai. Ecco una lista di 5 tecnologie innovative che non dovresti perdere nel corso dell'anno. Intelligenza artificiale e avanzata, l'IA sta raggiungendo nuovi livelli di complessità e capacità. Con modelli di apprendimento profondo sempre più avanzati, l'IA sta trovando applicazioni in settori come la medicina, l'automazione industriale, l'assistenza agli anziani e molto altro. GPT, 4 e altri sistemi IA di nuova generazione stanno portando la comunicazione uomo-macchina a livelli inimmaginabili. 5G e connettività ultraveloce, la diffusione del 5G sta rivoluzionando la connettività mobile. Oltre a velocità di download incredibilmente rapide, il 5G sta abilitando l'internet delle cose IoT su larga scala, consentendo la connessione di dispositivi come auto autonome, elettrodomestici intelligenti e infrastrutture urbane. Realtà aumentata Arezzo e realtà virtuale Verona, le tecnologie AR e Verona stanno diventando sempre più immersive ed accessibili. Oltre ai giochi, stanno trovando applicazioni in settori come la formazione, la salute, il design industriale e il turismo. Dispositivi come gli occhiali AR e le cuffie Verona stanno diventando più leggeri e potenti. Veicoli elettrici e sostenibili, la transizione verso i veicoli elettrici e versus e altre soluzioni di mobilità sostenibile sta guadagnando slancio. Nel 2023, vedremo una maggiore adozione di e-versus, ma anche di droni e veicoli aerei a decollo e atterraggio verticali e e-tools per la mobilità urbana. Tecnologie blockchain e criptovalute La blockchain sta rivoluzionando le finanze, la gestione dei dati e persino le elezioni. Le criptovalute stanno diventando sempre più accettate come forma di pagamento, e la tecnologia blockchain viene utilizzata per garantire la trasparenza e l'immunità dalla frode in una serie di applicazioni. Queste tecnologie stanno plasmando il nostro futuro e avranno un impatto significativo su come viviamo e lavoriamo. È importante rimanere informati e adattarsi a questi avanzamenti per rimanere rilevanti in un mondo sempre più tecnologico.